Questa sera, 21 marzo, Rai 1 trasmetterà in diretta da Roma alle 21.25 la 62esima edizione dei premi David di Donatello, alla conduzione Carlo Conti, a lui non soltanto il compito di guidare una grande serata di spettacolo per celebrare e festeggiare il cinema italiano con le attrici, gli attori, i registi e tutti i professionisti che hanno dato vita a una stagione di emozioni sul grande schermo, ma anche di far dimenticare la parentesi biennale di Sky. Le ultime due edizioni dei David infatti sono state realizzate e trasmesse dalla Pay TV che con il contributo di Alessandro Cattelan ha provato, riuscendoci in parte, a svecchiare la cerimonia di premiazione dando vite ad entrambe le annate a show televisivi dai ritmi serrati e con pochissime distrazioni rispetto al tema centrale, quello cinematografico. A impreziosire la serata dei David 2018 la presenza di due grandi star internazionali, il regista e produttore premio Oscar Steven Spielberg che riceverà il David alla carriera e Diane Keaton, attrice affascinante e anticonformista, anche lei premio Oscar, qui è stato assegnato un David speciale. Sul palco salirà anche una protagonista femminile assoluta del cinema italiano e internazionale come Stefania Sandrelli alla quale sarà consegnato un David speciale. Oltre agli ospiti cinematografici previsti come Pierfrancesco Favino, Roberto Bolle, Luca Zingaretti, Nino Frassica e Beppe Fiorello ci saranno anche esponenti del mondo della canzone italiana come Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ian che renderanno un loro personalissimo omaggio al cinema italiano eseguendo live le canzoni originali di alcuni grandi film del passato. 27 i film candidati a ricevere il prestigioso premio, tra questi quelli che hanno ricevuto il maggior numero di candidature sono Amore e Malavita con 15, Napoli Velata con 11, La Tenerezza, Nico 1988 e The Place con 8.